Sei scappato dalle famiglie affidatarie di Sei Contei. So badare a me stesso. A 18 anni. Dà fiducia a questa gente. Come loro la danno a te. Lui è Billy Batson. Fatelo sentire a casa. Sembrano bravi, ma non a bucare. In realtà è peggio del trono di spade qui. Su, ti prendo in giro. Lo so che pensi come sei cupo, sei orfano e disabile, che altro vuoi? Puoi avere un superpotere. Quale vorresti? Tutti scelgono volare. Sai perché? Per volare via da questa conversazione? No, perché gli eroi volano. Aspetti che la tua finta famiglia venga a difenderti? Ehi! Oh, quanto mi dispiace. Dai, dai, dai! Prendilo! Levatevi! Billy Batson. Io scelgo te come campione. Chi c'è? Di il mio nome e i miei poteri scorreranno in te. Ma io non so qual è il suo nome. Shazam. Ma che davvero? Dillo! Ok! Shazam. Sono io, sono Billy. Che sta succedendo? Tu sei l'unico che sa qualcosa di questa roba da crociato in cappucciato. Posso? Oh, sì, sì. Fazzesco, vero? Quale superpotere hai? Superpotere? Non so nemmeno come fare pipì con questo. Hai la superforza! Puoi volare? Stai bene? Perché non parli? Una lucidata non basta. Telefono carico. Telefono carico. E sta attento! Tu sei un criminale, vero? Shazam! Ehi, amici! Sei immune ai proiettili! Antiproiettile? Siete morti. Scusa per la vetrina. Buonanotte! Ma almeno non ti hanno rapinato! Oh, ehi. Ciao, sono un supereroe. Sous-titrage Société Radio-Canada